Buongiorno e ben ritrovati a tutti e gli auto economisti che sostengono questo canale con un abbonamento Esatto, esatto, un bel, sai chi dovrai ripetere tutto? Sì, sì, lo so Vabbè, chi è che mette like perché sostiene il canale? Bella lì Saluto ovviamente chi è che è in chat, siete belli carichi oggi, oggi andiamo un po' sul pesantino E ovviamente saluto anche i nostri amici putinisti tipo il signor Sir Vaukt Che non usa un nome che ci possa permettere di identificarlo Però lui ovviamente muove accuse a questo canale rispetto a Nord Stream 2 Che vi ricordo, Nord Stream 2, Nord Stream Che vi ricordo il sottoscritto non ha mai dato colpe, ha soltanto avanzato ipotesi Ipotesi, no? Poi se il signor Vaukt ha qualche elemento serio A parte il sito miocugino.com che ha la Playstation 10 in garage Sarebbe interessante leggerle queste bellissime fonti su Nord Stream Ma soprattutto mi piacerebbe sapere il minuto e la live in cui io ho affermato Che oltre ogni ragionevole dubbio il sabotaggio di Nord Stream fosse stato compiuto dai russi Che strano Quindi qua volano accuse pesanti senza nome e cognome ma soprattutto accuse infondate Detto ciò, oggi di che cosa parliamo? Oggi parliamo di un tema che secondo me merita un approfondimento A parte i miei capelli che come al solito soffrono, diciamo, del tempo Se c'è umidità o non c'è umidità si divertono a essere lisci, mossi o ricci Detto ciò, perché questo? Perché oggi voglio proporvi questa analisi? Voglio proporvi questa analisi perché è da diverso tempo che collaboro con un po' di ragazzi Che si occupano di Osint e l'occasione mie ghiotta per presentare un po' quello che abbiamo trovato online Sulla propaganda russa Perché mie ghiotta? Perché l'associazione Vento dell'Est Diciamo dà occasione per ritornare sul tema e esprimere alcune perplessità A riguardo dei collegamenti che esistono fra i vari personaggi Che spuntano fuori rispetto alla propaganda russa in Italia E io vorrei partire appunto da Vento dell'Est Fino ad arrivare a altre associazioni magari un po' meno conosciute O almeno non così al centro della cronaca degli ultimi giorni Ok, allora partiamo subito da Vento dell'Est Allora, Vento dell'Est è un'associazione che appunto è collegata a tanti eventi Fra cui quello di Modena del 20 gennaio, se non vado errato con la data Con cui io, Comitato Ventotenne, ma anche Radicali, Liberi Oltre E tante altre associazioni di assoluto rilievo Io ovviamente sono uno dei più piccoli E ringrazio per questa partecipazione Anche la possibilità di partecipare, manifestare appunto il mio disappunto Rispetto all'utilizzo di aule di un comune per promuovere la propaganda di Putin Ben inteso, se l'avessero fatto in un hotel o da altre parti, chi se ne frega Il problema appunto è l'utilizzo delle aule della democrazia e non delle aule private Che hanno anche due costi estremamente diversi Comunque, Vento dell'Est è un qualcosa di interessante Come potete vedere da questo screenshot ottenuto da Spiderfoot Che è un applicativo di Osint Come ce ne sono tanti altri Ma potete ottenere queste informazioni anche da web Trattino woes, scusatemi, .nic.it Per ottenere appunto queste informazioni Ecco, Vento dell'Est nasce il 20 ottobre 2022 come sito Questo secondo me è un elemento da tenere in considerazione Vediamo anche che l'ultimo update che è stato fatto al sito È appunto del novembre del 2023 Vado oltre, vado oltre perché vorrei sottolineare questa data Ovvero il 20 ottobre del 2022 Infatti, questa associazione che fa questo sito Nasce proprio per una raccolta fondi E quindi anche un supporto Per queste missioni di volontariato nel Donbass Che è sicuramente qualcosa di meritevole Almeno a mio avviso Cioè, supportare le cause umanitarie è sempre positivo Detto ciò, fa strano Magari qua è un errore di battitura O magari è un errore da qualche parte Che un sito che nasce appunto a ottobre 2022 Dica di aver consegnato degli aiuti umanitari a luglio 2022 Anche perché di notizie di questo vento dell'Est Non se ne hanno, almeno io non ne ho trovate Prima dell'ottobre del 2022 Quindi non si spiega perché tre mesi prima Ovvero a luglio del 2022 Questa associazione già riusciva a operare Quindi già questo è un primo punto di domanda Cosa interessante, come dicevo sul canale di Michele Boldrin È che questo vento dell'Est Non è in possesso di partita IVA nel codice fiscale Quindi si tratta di un'associazione non riconosciuta Ben inteso, a quanto mi risulta è possibile farlo Ok, quindi è possibile creare un'associazione non riconosciuta Senza codice fiscale, senza partita IVA Ci mancherebbe Però certo è che quando si tratta di soldi Non avere, ad esempio, uno statuto pubblico O quantomeno conoscere, insomma, come transitano i soldi Ci potrebbe far venire sospetto che il tutto sia leggermente opaco Tutto qua, però, nessun problema Cioè, io non sto muovendo accuse di nessun tipo Però questa cosa, diciamo che, mi fa altamente sospettare Cosa interessante, poi, è vedere Che, appunto, questa associazione Va a Verissimo, Gabriele mi corregge A Modena In verità era organizzata da Russia e Emilia Romagna Giusto? Corretto? Corretto Mio piccolo lapsus Comunque sia, cosa interessante vedere Le sponsorizzazioni che sono attive Da questo vento dell'est Vento dell'est che ha delle sponsorizzazioni Che vengono pagate E interessante vedere la fascia di età Che viene coinvolta maggiormente Da queste sponsorizzate Cioè, sostanzialmente, chi viene raggiunto Beneficiari e pagante Sarebbe questo Lorenzo Berti Su questo Enrico Baldi Che è, appunto, il Diciamo, la persona coinvolta nel pagamento Non ho trovato grande informazione Invece, su Lorenzo Berti Ce ne sono parecchie In particolare, nel 2015 Era collegato direttamente A Casa Pound A Pistoia Questo è un comune Che secondo me andrebbe tenuto Sotto osservazione Perché dico questo? Perché poi vedremo fra un attimo Che il comune di Pistoia È collegato a doppio filo Convento dell'est Infatti Io ho trovato anche la via Da cui è stato registrato Questo IP E cercando questa via Su alcuni gruppi Facebook Si fa riferimento Alla presenza In questa via E speriamo non a questo civico Di un esponente della Lega In particolare su quei gruppi Un po' di paese Ovviamente qua non metto lo screen Anche per evitare Possibili Diciamo Violazione della privacy Comunque insomma Contenuti che non è il massimo Divulgare E non metto neanche L'indirizzo Ci mancherebbe Anche qua Rispettiamo un po' di privacy Anche se sono tutte Informazioni pubbliche Ben inteso Però sta di fatto Che emerge Che appunto In questa via Abiti Un consigliere della Lega Questa è una cosa interessante Perché? Perché questa è una Piccola congettura Che però Trova un certo riscontro Rispetto agli eventi Di vento dell'Est Perché trova un certo riscontro Rispetto agli eventi Di vento dell'Est Perché Molti di questi eventi Vedono la partecipazione Di senatori Ed eurodeputati O comunque parlamentari Della Lega Ad esempio Abbiamo questo evento A Bari No Sabato 18 novembre A Taurisano Lecce Scusatemi In cui interviene Roberto Marti Senatore della Lega E presidente La Commissione Cultura del Senato Secondo Quanto riporta Open Il signor Roberto Marti Era indagato Per tentato Abuso d'ufficio Falsi ideologico Aggravato E tentato Peculato in concorso Cosa è successo? E' successo Che il senatore Lecce della Lega Non ha subito Alcun processo Che il senato Ha sostanzialmente Vietato L'utilizzo Delle intercettazioni Chiude L'articolo Open Dicendo che Il procedimento Si è chiuso Per ragioni Puramente tecniche Non di certo Perché Si è soddisfatto Un bisogno Di verità Questo per dare un po' Il contesto Di chi sia Appunto Roberto Marti Altra cosa interessante È che Sempre in un altro evento Partecipa anche Danilo Oscar Lancini Eurodeputato Della Lega Il quale Non si è fatto Diciamo Molti scrupoli Nel promulgare Diciamo Alcune idee Sulla guerra Tra Russia E Ucraina E anche Diciamo A sostenere Se volete Il no Agli aiuti militari Dell'Italia Ma anche Diciamo Dell'Europa Infatti qua Vediamo un altro articolo Strasburgo Dare i jet All'Ucraina Italiani tutti a favore Tranne Il leghista Lancini Queste sono Ripeto Tante congetture Che ne mettiamo insieme Però come al solito Il rasoio di Oakland Poi ci porta Da qualche parte Altra interessante Collaborazione Che vanta Vento dell'Est E con Borgonovo Che io su Calani di Michele Ho In modo erroneo Ovviamente Per un lapsus Nominato Borgonato A caso Non so perché Però sta di fatto Che ho detto Questo nome In modo assolutamente Errato Costa poi in chat Mi ha corretto Però lo dico Anche qui Perché sai Magari c'è qualche Problema di interpretazione Sta di fatto Che Vento dell'Est Associazione Che nasce A ottobre 2022 Riesce ad esempio Nel dicembre 2023 A portare appunto Borgonovo Nel suo Nel suo palissesto E diciamo Che la collaborazione Con Borgonovo È È stata abbastanza proficua Diciamo Nel 2023 Vediamo appunto Il programma Di Bio Blu Ok In 1984 Che vede Appunto Borgonovo Portare Lorenzo Lorenzo Berti Exponente Ex esponente Di Casa Pound Andiamo oltre Perché vediamo Anche il 17 maggio 2023 Un'altra invitata E Dopodiché Un altro Un altro Convenio Comune Tra Questi due Queste due Entità Nel febbraio 2023 Ha sempre a Pistoia Ancora il 27 gennaio 2023 Venerdì 3 febbraio Scusatemi Insomma Possiamo dirci Che l'Evento dell'Est Nel corso di quest'anno È riuscito A portarsi a casa Ospiti Di una certa caratura Ecco Fra cui Appunto qua Sabato 27 gennaio Mi sconfondevo appunto Con l'Evento di Modena A Lucca Vi sarà Un intervento Di Alexander Dugin Giorgio Bianchi Alberto Bradaleo Zanini E Lorenzo Berti Appunto Quindi come vedete Un'associazione Molto forte Con certi Collegamenti Niente di cui Sorprendersi Sotto certi aspetti Interessante poi Che Vento dell'Est Ha organizzato Domenica 14 gennaio 2024 Allo Spazio Ritter Di Milano Un intervento A sostegno Della Dughina No Un intervento A sostegno Della Dughina Che secondo me Ci dovrebbe fare Riflettere Sotto Certi Aspetti Perché Perché questo Evento viene organizzato Nello Spazio Ritter Secondo l'inchiesta Ritter È collegata Alla casa Edettrice Omonima Ovviamente E Ospiterebbe Diciamo Spesso e volentieri Movimenti di estrema destra Comunque Contrari Alla Nato Contrari Diciamo Alla visione occidentale Che ci mancherebbe Nulla di che Però A mio avviso È interessante Notare Quanti collegamenti Nascano Dietro poi Questi Aiuti Verso Appunto I bambini Nel Donbass Perché poi Alla fine Questo è Diciamo Il collegamento Principale Che io noto Tra l'altro Qua L'inchiesta Dice Ospita opere Di Alexander Dugin E Francesca Totolo E il suo fondatore Marco Battara Scusatemi È entusiasta Del movimento Di estrema destra Nato nella Lega Lealtà azione Ripeto Io qua Non muovo accuse Poi ognuno Faccia un po' Di Riconduzione Tra I vari ospiti Che Vento dell'est Annovera O comunque Le varie collaborazioni O reciproci Repost Assolutamente Non sponsorizzazioni Mi ha detto Di dire Il signor Andrea Lucidi Perché appunto Lui non è pagato Per queste cose L'ha detto in privato Quindi ci mancherebbe Riporto Quanto Lucidi Mi ha detto Ecco che Appunto Troviamo Ad esempio Eliseo Bertolasi Oltre che Andrea Lucidi Insomma Persone Che si qualificano Un po' Sulla base Della Diciamo Di quello che esprimono Sui vari social Ma anche sugli eventi A cui partecipano Cosa interessante È notare Appunto L'utilizzo Di bambini Secondo me L'utilizzo Comunque Di questo pretesto Sui bambini Diciamo Quest'analisi È partita Proprio Da Questo intervento Di lucidi Sotto un post Di Di un giornalista Di open Così per non fare nomi Andrea lucidi Appunto Chiedeva La cancellazione Di un post E di una foto Oltre che di Un'intervista Perché Erano riportate Informazioni personali Che non voleva Diffondere ulteriormente Ancora sempre lucidi Dice L'intervista Da dove hai tradotto Questo pezzo È stata rilasciata Da me Alla missione Umanitaria russa Che collabora Con AASIB Org O NG Scusatemi Rinnovo l'invito A cancellare Lo screen E gli altri Che pubblicato Non voglio diffondere In twitter E in lingua italiana Questi dati Cosa interessante Appunto Il perché Lucidi Voglia cancellare Questo post Lui dice Per privacy Beh Per privacy Interessante Però Missione Umanitaria russa Collabora Ci dice Con Appunto Questa Organizzazione Parliamo un attimo Di Missione Umanitaria russa Missione Umanitaria russa Diciamo È Preseduta Da questo personaggio Sergei Grigorievich Spero di averlo pronunciato In modo giusto Il quale È stato Sanzionato Per Diciamo La sua Attività Di Propaganda Ma comunque Diciamo Il coinvolgimento Per quanto riguarda La guerra Tra Russia E Ucraina La stessa Missione Umanitaria russa Anch'Essa È stata Appunto Sanzionata Anche qui Ci sono tutte le fonti Che vi ho messo in descrizione Non è farina nel mio sacco E insomma Questo è un altro elemento interessante Quindi abbiamo Un ente Sanzionato Che collabora Con Lucidi Che collabora Appunto Con questa Asbi Sib Cioè Aiutateci a salvare i bambini Questo è il significato dell'acronimo che vediamo Ora Questa Associazione Qui l'ho scritto A scanso di equivoci Svolge a mio avviso Un'azione meritoria Cioè Questa associazione Come anche L'Avento dell'Est Vanno ad assistere Bambini malati E quindi A mio avviso Meritano Tutto il rispetto Dopodiché però Ci sono alcuni aspetti Secondo me Da considerare Il primo aspetto È che Opera Esclusivamente Nei territori Russofoni Occupati dai russi Quindi questo Già È un primo problema Cioè Come mai Opera Esclusivamente In questi territori Un fatto abbastanza strano Dopodiché Il fondatore Ha una visione politica Fortemente Filorussa Antioccidentale Oltre che Un altro aspetto Cioè La questione Delle sanzioni Ma lo vedremo Fra qualche istante Con un intervento Appunto Del presidente Di questa associazione Anche qui Noto che A Sib Non presenti Un codice Fiscale Una partita IVA Ma anche qua Poco ci interessa Detto francamente Un elemento così A contorno Anche se Se uno va a fare Un po' di giri sul sito Riesce a ritrovarla Questa partita IVA E questo codice fiscale Quanto meno Abbiamo questo elemento Certo è che Diciamo Dalla privacy policy Non si capisce Insomma Chi sia il proprietario Perché appunto Non viene detto La partita IVA Non viene detta La partita IVA Anche se Anche qua Ci dicono Dove è la serie De legale Ci dicono Chi è il titolare Il titolare E il legale Rappresentante Eccetera 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 Secondo questo sito Secondo sempre Questo sito È possibile Andare a Verificare Ritrovare Ovviamente Tutta una serie Di informazioni Come i bilanci Rendiconti E via discorrendo Purtroppo Questa Questa Diciamo Questi link Non funzionavano Infatti Abbiamo trovato Ho trovato Ovviamente Lo statuto Il quale ci dice Che l'associazione A partitica E a confessionale Bellissima cosa Però purtroppo I bilanci No Partiamo dal concetto Di a partitica E a confessionale Perché Abbiamo un articolo Che Viene caricato Su Wayback Machine Nel luglio Del 2018 Come potete vedere Da questo screen Che ci dice Tutto Fuorché Appunto Questa associazione Sia a partitica E a confessionale Non lo so Se è un qualcosa Che è stato scritto Per Perché va scritto Insomma Ci può stare Però diciamo Chiaramente Che da questa Intervista Del nostro Presidente Della associazione Fatta dal Presidente Dal parroco Della parrocchia Russa Ortodossa Di Torino A me Non sembra Che si evinca Una situazione A partitica E a confessionale Infatti il presidente Ennio Bordato Ci informa Del perché Nasce Questa sua Passione Per La causa Russa O comunque Questa sua Particolare Questo suo particolare Piacere Nei confronti Appunto Dell'aiuto Della Russia O comunque Questa sua vicinanza E con la Russia Ci dice E quindi Già questo Ci dice un po' Non diranno nulla Questi nomi A un giovane d'oggi Gorbachev Essin E via discorrendo Ma per chi è passato La cinquantina Descrivono In un secondo La fatica Drammatica Della vita Dell'uomo russo E sovietico Vidi un popolo Ed un paese Allo stremo Stremo economico Fisico E spirituale Cosa interessante Vedere Cosa scrive Già nel 2018 Il nostro presidente Il primo gennaio Del 1991 A Kiev Eravamo andati All'estero E all'estero Tra virgolette Questa cosa Anche qui Congettura Però sta di fatto Che a me Con gli occhi di oggi Mi dice Mi dà un altro significato Magari con gli occhi di ieri Erano altri significati Però con gli occhi di oggi Diciamo che ci vede Un certo significato Cenammo nel più grande hotel Della città Con il cappotto Non funzionava il riscaldamento Con mezzo pollo freddo In tre Ed una bottiglia di cognac Le uniche cose Che la cucina Poteva offrirci Molto interessante Interessante poi Appunto andare a vedere Dov'è che opera Questa associazione Ad esempio Opera Nell'Olsezia Territorio occupato Dai russi Tra l'altro È interessante vedere Come viene proposto Questo aiuto Nella notte Fra il 7 e 8 agosto 2008 L'esercito georgiano Invase il territorio Seto Approfittando del fatto Che l'attenzione dei media Era rivolta Alle olimpiadi di Pechino Il tentato genocidio Del popolo Seto Produsse migliaia di morti E la distruzione Della capitale L'intervento militare russo Riportò la pace In Ossezia Anche qui Un giro Ad esempio Su Siti come Lo OSCE O qualcosa di simile Comunque Organi internazionali E indipendenti Ci dice che Insomma Questo riassunto Fatto da Questa associazione È quantomeno ingeneroso Interessante vedere Anche qua Il 12 marzo 2022 Non una presa Di posizione Nei confronti Appunto Dell'attacco russo Verso l'Ucraina Ma anzi Dal 2014 Portiamo aiuto Manitore in Donbass Aiutiamo i bambini Dell'Ucraina Affetti da gravi De patologie Trasparenza Coerenza Ed umanità Ciò che ci guida Diciamo che Fino adesso Trasparenza Io Tantissima non ne ho vista Primo ottobre 2014 Non so se qualcuno Conosce Beslan Però anche qui Beslan 2004 Donbass 2014 Stessa mano Occidentale Assassina E ripetiamo L'associazione Non ha Una fede A confessionale Ed è a partitica Dopodiché abbiamo Il 26 prelie 2022 Un altro post In cui ci dicono Che appunto I bambini di Mariupol Aspettano aiuto Peccato che Non abbiano detto Che i bambini di Mariupol Necessitavano Di aiuto Perché Sotto bombardamento Russo Un altro aspetto Donbass Dal 2014 Un Auschwitz Senza fili spinati E camera gas Ricordiamo A partitica Dopodiché Il 23 agosto 2022 Si sono Lamentati Perché appunto Youtube Ha rimosso Dal loro canale Un filmato Di bambini feriti A Gorlavka Di solito Youtube Quando interviene Da questo punto di vista Lo fa Per motivi Abbastanza Seri Poiché ancora Altri post Che celebrano La Russia Tranquillamente O comunque Vanno a screditare L'Ucraina E ripeto Si può fare Tranquillamente Però la cosa A me Destabilizza Quando leggo Nello statuto Che appunto Questa fondazione Sia partitica Anzi Questa associazione Sia partitica E sia A confessionale Cosa interessante Che Aiutateci A salvare I bambini Ollus Anche qui Io non ho capito Se una Ollus O ODB Cosa sia Vabbè Poco ci interessa A un certo punto Ha una gemella In Francia La gemella Si chiama Solidarieté Enfante Beslan Ce lo raccontano Appunto Loro E Magari qua Salto un secondo E poi torno Solidarieté Enfante Beslan Al suo interno Trova una persona Che si chiama Dimitri De Kocco La quale È stata Identificata Come persona Che Ha fatto Spesso e volentieri Propaganda Pro Putin E neanche questo Diciamo che è un elemento Qua viene descritto Come un troll Del Cremlino Altra cosa interessante Sulla trasparenza Qui non è un errore Nello screenshot È il fatto che Appunto Bilanci E Rapporto Attività Almeno me Oggi Visto che volevo fare Uno screenshot Definitivo Poi magari Nelle prossime ore Verrà caricato Che ne so Magari c'era stato Un problema di server Magari Chissà che cosa Da di fatto Che non caricano Non sono accessibili Io ho provato In ogni modo Ma non ci sono riuscito Ho chiesto anche ad altri Di fare accesso Al link Per vedere E più o meno La risposta è stata la stessa Quindi probabilmente Era un errore di server Oppure Ma anche qui Si pensa male Questi rapporti Di attività E bilanci Non sono disponibili Tenetelo a mente Perché questa cosa Ci torna utile Più avanti Sempre il presidente Di questa associazione Quindi Ennio Bordato Ci racconta un po' Come operano Quindi come operano Per salvare i bambini In Russia O nei territori Occupati dai russi E la cosa interessante È che intervenendo A questo programma Su youtube Caricato su youtube Spiega Come operino Al minuto 3 Io non metto qua Il video Perché ci mancherebbe Non voglio farmi Buttare giù la live Però è interessante Vedere che Appunto al minuto 3 Lui dica Che non operino Direttamente in Russia Quindi significa Che I soldi Che vengono raccolti Parliamo di centinaia Di centinaia di migliaia Di euro Secondo appunto Quanto dice Ennio Bordato Finiscono A delle associazioni A questo punto Suppongo russe O filorusse O comunque In quei territori Che poi Gestiscono I soldi Quindi non c'è Una gestione diretta Da parte di questa associazione Questa secondo me È una cosa Che è abbastanza critica Appunto In relazione Alle sanzioni Della serie Siamo sicuri Poi che quei soldi Vengano utilizzati Per aiutare i bambini A quanto mi dicono Così Però insomma Anche qua Pensare male Si fa peccato Ma qualche volta Ci si azzecca Altra cosa interessante Su questi Questi personaggi Che ritornano La trovo Con questo Questo Convegno a Modena 20 gennaio 2024 Che vede La presenza Di Eliseo Bertolasi E Andrea Lucidi Oltre che Luca Rossi Presidente L'associazione Russi Emilia Romagna Oltre che Dimitri Stodin Consolo generale Della federazione Russa Anche qua Io chiedo Scusa per la mia Pronuncia russa Veramente Triste Cosa interessante È che Sul sito Di Ruskimir Eliseo Bertolasi Viene presentato Come Un Importante Portavoce E Viene presentato Con questo Vircollettato La tutela Della cultura russa È responsabilità Di ogni persona Degna Interessante notare È che Sempre la fondazione Ruskimir È stata sanzionata Oltre che Essere Diciamo Secondo il sito In collegamento Con l'università Statale di Milano L'università Di Pisa Università L'Oriente E L'associazione Capire L'Eurasia Interessante Puoi notare Il perché È stata sanzionata Leggiamo Direttamente Dalle sanzioni Europee Ruskimir Foundation Il suo mandato Ufficiale Consiste nel promuovere La lingua E la cultura Russa In tutto il mondo Ma la fondazione È stata utilizzata Dal Cremlino Come importante Strumento D'influenza Che promuove Con decisione Un programma Russocentrico Negli stati Post-URSS Respinge La legittimità Dell'Ucraina Come un'azione Sovrana E sostiene La sua unificazione Con la Russia Pertanto È responsabile Di sostenere Azioni Che compromettono O minacciano L'integrità Territoriale E la sovranità E l'indipendenza Dell'Ucraina Ha inoltre Trattato Tratto vantaggio Dal governo Della federazione Russa Perché qua Vengono gestiti Anche dei finanziamenti Responsabile Dalla nessione Della Crimea E della destabilizzazione Dell'Ucraina Quindi diciamo Che l'Unione Europea Non sanziona Soltanto Ruskimir Ma ne sanziona Anche Il concetto Dietro Ruskimir Cosa interessante È che Diciamo Più o meno All'inizio Dell'anno scorso 19 marzo 2023 Ruskimir Ci dice Che è nato Un bambino Cioè è nato Sostanzialmente Una sorta di Associazione Secondaria Che dovrebbe Fare Tutto ciò Che ha fatto Ruskimir Però senza Tutti quei Finanziamenti Sembrerebbe Infatti Si tratta Di un nuovo Movimento Russofilo Internazionale Movimento Dei Russofili Internazionale Perché ci Interessa Questo Perché Appunto La conferenza Compagliata Da Mosca Si terrà Modena Il 20 Gennaio Tra i Partecipanti Oltre al Consulio Generale Russo Il presidente dell'Associazione Russo Emilia Romagna Luca Rossi Il rappresentante Italiano Del movimento Internazionale Dei russofili Mir Eliseo Bertolasi Quindi diciamo Che questo Bertolasi Che ogni tanto Salta fuori Col signor Lucidi È indirettamente Ovviamente Collegato Con Un'associazione Che sembrerebbe Essere Un qualcosa Di molto Simile A Ruskimir La quale È stata Sanzionata Quindi anche Questo secondo me Mette un paio Di perplessità Qua Errore di battitura Ovviamente Intendevo Bertolasi Non Betolasi È bordato Ecco i due Si conoscono Quindi Il presidente Dell'Associazione Aiutateci a salvare Bambini E Bertolasi Che è appunto Il rappresentante Di questo nuovo Mir Sembrano essere Contatto Da questa foto Instagram Che è stata pubblicata Contesto In russo Qui ve ne vado a dare Una traduzione Fatta con Dippol Che spero Abbia reso Un po' l'idea E ci dice Che il 27 novembre Si sono svolte in Italia Una serie di eventi A sostegno del Donbass Così durante L'organizzazione Del centro di rappresentanza DPR A Verona Si è svolto Il convegno online Ucraina-Dombass Il partenariato orientale E l'aggravarsi Della crisi All'evento Erano presenti Il presidente del centro Di rappresentanza DPR Di Verona Palmarino Zoccatelli Il copresidente Del centro di rappresentanza DPR Di Torino Eliseo Bertolasi Il rappresentante Della Camera Vito Comencini Il rappresentante Della Repubblica Dell'Olsezia del Sud In Italia Mauro Murgia Il presidente Dell'organizzazione Aiutatici a salvare i bambini Ennio Bordato Dopodiché ci sono Anche altri personaggi Da parte loro I rappresentanti Della Italia Hanno espresso La loro disponibilità A fornire Il sostegno necessario Per raggiungere La pace Nella Repubblica Sempre il 27 novembre Si è tenuta a Roma La tavola rotonda online Co-presidente Del centro di rappresentazione Sempre Eliseo Bertolasi Vice direttore La rivista Eurasia Stefano Vernole E tutta un'altra serie Di personaggi Che vi invito A approfondire Vito Comencini Appunto Come vi dicevo È il deputato della Lega Si dice Che sia molto collegato Diciamo Al Cremlino Qui riporto Un altro articolo Di Open Che dice Appunto Il deputato della Lega In Russia Filo Putin Io identitario La guerra Qui i ristoranti Sono pieni Insomma qua Mi sembra che faccia Il verso A quello che Diceva Berlusconi O Tremonti Quando Diciamo Iniziava Dare evidenza La crisi Del 2007 Ovviamente Io ho chiesto Un paio di informazioni Magari a lucidi Per darmi un po' Di contesto Rispetto a quello Che avevo Trovato In rete E in particolare Gli ho chiesto Informazioni Sui bilanci E lui mi dice Che li ha controllati Questi bilanci E che quindi Non c'è assolutamente Nessun problema Quindi diciamo Rispetto a questa associazione Aiutiamo a salvare i bambini Lui mi ha informato Che appunto Non c'era alcun problema Nei bilanci Mi piacerebbe Leggerli questi bilanci Purtroppo Come vi ho detto Non è possibile Leggerli Andrea mi dice Io non ho fatto Il revisore contabile Dell'associazione È una realtà Che sostengo Economicamente E di cui ho visto L'attività sul territorio In prima persona Se vuoi queste informazioni Dettagliate Dovresti scrivere a loro Perché appunto Io gli ho chiesto Corrisponde L'uscita di cassa Con l'entrata C'è corrispondenza Nel flusso Ovviamente poi Mi ha chiesto Di Se avessi condiviso Questi screen Di riportare Questa sua affermazione Ovvero Non ho nessun motivo Di pensare Che l'organizzazione Faccia attività Differenti Dall'aiuto umanitario O che utilizzi Diversamente Il denaro Che raccoglie Sostengo L'associazione Perché credo In quello che è fatto Ed ho potuto Vedere di persona Le loro attività Su territorio Del Donbass russo E aggiunge Non ho mai preso Soldi Per i miei post Di invito A sostenere L'organizzazione Qui come vedete Appunto Uno dei post In cui Andrea Lucidi Sostiene Questa organizzazione Cosa interessante E che spesso Volentieri Il signor Lucidi Cita anche Donbass Italia Il quale Ha una certa Storia interessante Qua un po' Per il meme Anche perché Facciamoci anche Due risate Sotto certi aspetti Ovvero In precedenza Portava come Tag Come nome utente Sports streaming VPN Perché Questo Donbass Italia Cambia nome Ci dice Grazie a tutti voi Che state seguendo Questo canale Un canale nato Un paio di anni fa Per parlare Di VPN E della possibilità Di guadagnare E abbonarsi Legalmente Ai palestesi Sportivi russi E fino a qua Non mi sembra Che ci sia Nessun problema Da quando però È scattata la mobilitazione Nel Donbass Non potevo Chiudere gli occhi E abbiamo deciso Di trasformare Questo canale In un canale Informativo Il timore Confermato Dalle nostre fonti Dirette Oltre che Documenti riservati Scoperti Recentemente Di una tremenda Offensiva Nel Donbass Da parte Dell'esercito ucraino Ci ha spinti A far conoscere Il punto di vista Di chi Da otto anni Subisce in silenzio Una guerra Portata avanti Dalle forze ucraine Di Poroshenko Prima E di Zelensky Dopo Anche qui Cose abbastanza Confutabili Facendo riferimento Sempre ai siti Indipendenti E via discorrendo Però è interessante Notare questo Cambiamento Tra l'altro Queste persone Prima si facevano Pagare i rubri Suppongo anche oggi A quanto c'è In evidenza Cosa interessante Per vedere Che relazioni C'è tra Donbass Italia E Lucidi Donbass Italia Mi dà mezzo milione Di rubri al mese Più le spese Scrive Lucidi Su Twitter In modo Assolutamente Legittimo Io penso Con mezzo milione Di rubri Campi bene Anche in Italia Tra l'altro Donbass Italia Con sul perio finanziario Guadagna decine Di milioni Di rubri al mese Donbass Italia Ci riesce A bypassare Le sanzioni Sottointeso Alla fine Ottiene dollari Ed euro Che manda Da ruba Ora io non so Se Lucidi Sta trollando Tramite le sue società Negli Emirati Arabi Le cambia in dollari E poi in euro Dirottandoli Sui sui conti Ed a ruba E anche questo Secondo me La dice È abbastanza lunga Cioè abbiamo Associazioni umanitarie Che Aiutano i bambini Così dicono Abbiamo Propagandisti russi Abbiamo membri Delle istituzioni Delle istituzioni Che votano Contro La difesa Del popolo ucraino E nel mezzo Troviamo I soliti noti Ad esempio Qua abbiamo Una commemorazione Della Dughina E la corte Di brut Di gravirate Perché Cito questo evento Perché è un evento Interessante A cui partecipa Dughin E appunto A gestire La location Dell'evento In provincia Di Varese È Reinaldo Graziani Figlio del più Celebre Clemente Cofondatore Di Ordine Nuovo Ma i legali Con quell'ambiente Sono anche altri E qui c'è un altro Articolo di Open Che va nel dettaglio Interessante notare Poi cosa viene Consegnato A Dughin In questa Location Per Diciamo I meno Avvezzi A questi temi Probabilmente Questo dono Significa Veramente Poco Nulla Per chi Invece Magari Conosce Un po' Di storia Del fascismo Storia Anche Del nazismo Questa Lanterna Di Yule Era costruita In terracotta E venne Fabbricata Dalla ditta Appunto Qua Evito Di Spoilerare La mia Conoscenza Del tedesco Di proprietà Dell'SS E dislocata Nelle vicinanze Del campo Di concentramento Di Dachau Himmler Aveva avviato Un processo Di Scristianizzazione Degli appartenenti All'ordine nero Sostituendo La ricorrezza cristiana Quella di carattere pagano Soprattutto E basta pensare All'esempio Del 24 25 dicembre Quindi insomma Viene donato Viene donata Questa lanterna Di Yule Che Possiamo dirci Non è proprio Un elemento Democratico Quanto meno Ecco Qui una foto Di contesto Insomma Rispetto A questa Lanterna Di Yule Il padrone Di casa Ci riporta Report Figlio di Clemente Confondatore Ancora di Ordine Nuovo Insieme a Pino Rauti Offrì All'Alexander Dugin La lampada Di Yule Oggetto votivo Dell'SS Usata per festeggiare Il sostizio D'inverno Anche questo Secondo me È un elemento Insomma Che almeno A me personalmente Fa pensare Ecco Fa pensare Ripeto ancora una volta Nessuna accusa Però Vi inviterei a riflettere Su questi Elementi Cosa interessante Che Girum Che citavo ancora Nella live Di Michele Nel suo lungo thread Ci informa Che Andrea Lucidi Aveva organizzato Partecipato Un incontro sostenuto Tra Una scuola Dell'occupato Luansk E una scuola latina Il tutto Tramite Lazio Open Hub Un progetto Finanzato Dal fondo sociale Europeo Qui so Che La regione Lazio Sta indagando Più nel dettaglio Per capire Esattamente Come Come è andata La vicenda Sa di fatto Che anche qui Diciamo un incontro Di questo tipo Finanziato La regione Lazio Ci dice che Insomma Qualche Qualche forma Di sostegno Questi personaggi Lo hanno Anche all'interno Delle istituzioni Molto probabilmente Però Spero che La regione Lazio Riesca a ottenere Informazioni più specifiche Tipo quelle Che ha postato Tipo quelle Che ha postato Appunto Matteo Halli Le sue storie Instagram Visto che è stato Raggiunto Dalla regione Lazio Per dare Informazioni Insomma Qua Io lancio Questo elemento Aggiungo un altro Elemento interessante Sempre parlando Di Bambini Propaganda E via di scorrendo Interessante Notare che Questa opera Di Divulgazione Convincimento E via di scorrendo La troviamo anche Nelle opere Più innocue Ad esempio Nella trasposizione Russa di Harry Potter Ce ne sono tantissime Lo citiamo anche Da Michele L'altra sera Secondo me Anche questo È un elemento Che Val la pena Tenere presente Ovvero il fatto Che all'interno Di questi Racconti Che sono Più delle volte Delle storpiature Delle Parodie Di Harry Potter Troviamo anche Del Non lo so Dell'indottrinamento Chiamiamolo così Ad esempio Martin Luther King Che viene raffigurato Come Il capo Degli elfi Che vi ricordo Nell'universo Di Harry Potter Sono Diciamo Una razza Definiamola così Comunque Una Delle creature magiche Che sono Sottomesse Ai Maghi Ok C'è tutta La Storia Legata al Creepa Che poi Non Crepa Non saprei Come Producirlo Che poi Non viene Trasposta In pellicola Ma Che Diciamo Trova Ampie Pagine All'interno Dei racconti Della Rowling In particolare Nel sostegno Di Ermione Si impegna Moltissimo Nell'emancipazione Degli elfi È Un qualcosa Secondo me Che fa riflettere Cioè mettere Martin Luther King Lì È ovvio Che ha qualcosa Di politico Senza contare Tutta una serie Di altri aspetti Politici Legati sempre A queste opere Insomma Si va contro Praticamente La cultura Se volete dire Occidentale O comunque Diciamocelo francamente Non cultura occidentale Ma il buon Vivere civile Il rispetto Delle minoranze Banalmente O comunque Il rispetto Della società Intesa come Individuo E questo Secondo me È un elemento Importante Perché appunto Queste opere Vengono poi Sostenute Finanziariamente Dal governo russo E anche questo Un altro elemento Se volete approfondire Io non vado Nel dettaglio C'è Un video Fatto da Kalel Anni fa Che va Nel dettaglio Di questo tema E questo era Quello che volevo Dirvi oggi Più che altro Per riflettere Su cosa C'è Nella propaganda Italiana Sì Io A Modena Al 20 Ci sarò Assolutamente Spero che Spero che Anche molti Di voi Potranno Trovare Il tempo Per esserci Perché secondo me Ci sono alcuni elementi Che meritano Meritano Di essere Portati All'evidenza Del grande pubblico E purtroppo Se non si è In tanti Non si riesce Ora partiamo Con le accuse infondate Attento Umbe Ma quali accuse infondate? Io non sto muovendo Alcuna accusa Come vedete Non sono mai Collegamenti diretti Sono sempre Collegamenti indiretti Per cui Non si può Affermare nulla Non si può Accusare nessuno Certo è che Così tanti Elementi No Ad esempio Se tu prendi Tre variabili E ci trovi Una correlazione Non riesci a Giustificare La causa E l'effetto Per cui sono Appunto Uno causa E l'altro effetto E quindi Non trovi Un nesso Di causa Però puoi dire Eh c'è qualcosa Che li tiene uniti Cos'è Punto di domanda Vabbè Questo era quello Che volevo dire oggi Vedo che siete stati In tantissimi Vi rinnovo L'invito A premere Un bel like A condividere Questa live Che secondo me Merita Una certa Attenzione Ci sono delle situazioni Opache Che meritano Di essere Analizzate Più nel dettaglio Vedremo Se qualcuno Magari Riuscirà A fare Un'analisi Più seria Rispetto alla mia Io qua Vi lascio Qualche elemento Su cui riflettere Quindi se la live Vi è piaciuta O comunque vi ha fatto Riflettere Lasciate un like In caso contrario Un dislike È sempre accettato Salutiamo ovviamente I sostenitori Di Putin Perché Sembra giusto Salutarli Sono sempre presenti In queste chat I bot Salutiamo Ovviamente Anche loro E noi ci vediamo domani Come al solito Alle 12.30 Statemi Discretamente Bene Ciao ciao